buongiorno ad obiettivo news oggi 17 maggio san pasquale il 17 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale contro l'omofobia la bifobia e la transfobia la data 17 maggio è stata scelta per commemorare la decisione adottata nel 1990 dall'organizzazione mondiale della sanità di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle psicopatologie dall'anno della sua istituzione l'evento ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di diversi stati e istituzioni internazionali tra queste l'unione europea che dal 2007 appoggia l'evento sul territorio degli stati membri di quell'anno è la famosa risoluzione del parlamento europeo sull'omofobia in europa che all'articolo 8 ribadisce espressamente l'invito a tutti gli stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone dell'unione europea senza discriminazioni è un'esercizionale è un'esercizionale è un'esercizionale grazie a tutti